Ciao ragazzi e ciao ragazze e benvenutissimi in questo gattosissimo video sono qua con Mimino che ha trovato il suo amore grazie a Sbabam questo infatti è un video in collaborazione con Sbabam ringrazio Federica per questo e conosceremo i fantastici Doki Doki Kitties e uno di voi potrà adottare tutti e sei i Doki Doki Kitties e mi sono arrivati ma adesso sigla eccoci qua ragazzi in postazione con sei dei bellissimi Kitties di Sbabam questi gattini dolcissimi tutti da collezionare vi ricordo che in tutto sono dodici ma la Sbabam me ne ha mandato sei rimanete sino alla fine del video perché vi ricordo come vi ho detto nella intro che questi sei Kitties saranno adottabili da uno di voi ma iniziamo subito ragazzi vi ricordo innanzitutto di farvi dare sempre dall'edicolante il mini magazine che trovate naturalmente appunto in edicola insieme al mini Kitties con il suo trasportino guardate che carino poi lo vedremo nei particolari intanto guardiamo il magazine che naturalmente è dedicato per quanto riguarda questo appuntamento ai gatti e a tutte le sue curiosità quindi il pelo dei gatti, il gatto e l'acqua piuttosto che tutte le sue caratteristiche per quanto riguarda gli organi sensoriali una storia tutta dedicata ai gatti e poi guardate qua c'è una pagina questa volta molto molto importante del magazine perché tramite il gioco scratch scratch grattando l'etichetta che troveremo appunto nel trasportino dopo lo vedremo scopriremo qual è il cibo preferito del nostro kitty e dovremo per l'appunto attaccarlo qua come vedete ci sono tutti i quadratini con i nomi dei Kitties che possiamo trovare quindi mai come questa volta importante ragazzi farvi dare il magazine dal vostro edicolante andiamo ora ragazzi ad aprire uno dei bellissimi Kitties naturalmente quello che ho deciso di aprire per primo è il bellissimo tigre proprio perché mi ricorda assolutamente il mimino del mio cuore guardate quanto è carino il trasportino quindi dal packaging naturalmente come potete vedere questa volta potete chiaramente scegliere tutti i diversi Kitties che volete collezionare quindi non essendo una blind bag non c'è l'effetto sorpresa tutto in dei colori pastello con questo arcobaleno e tutti i vari Kitties che si possono collezionare e poi naturalmente qua si intravede lui e vediamo il suo nome ma procediamo all'apertura del trasportino che ha diciamo le sembianze di un portatorte con queste zampette davvero carinissimo lo apriamo e vediamo all'interno lo troveremo sicuramente la carta di adozione è una checklist ma iniziamo a guardare lui guardate gli occhioni tutti tendenti all'azzurro il suo nasino rosa e guardate le orecchie glitterate che caratterizzano peraltro tutti i Kitties guardate quanto è bello con questo pelo tigrato ragazzi veramente sono morbidissimi ma davvero davvero morbidissimi e all'interno oltre a questo Kitties fantastico troviamo per appunto il gioco Scratch Scratch di cui vi parlavo prima grattando infatti questo bollino argento scopriremo il cibo preferito di tigre guardiamo anche la carta di adozione eccola qua tigre questo attestato certifica che dovrete mettere il vostro nome ha ufficialmente adottato tigre si impegna a coccolarlo e proteggerlo riempendolo d'amore e carezze la firma e la data e poi dietro vediamo tutta la checklist dei carinissimi Doki Doki Skitties che possiamo trovare tutti da adottare abbiamo Geremia abbiamo Pinco abbiamo Charlie Birba Pinky tigre che abbiamo appena trovato abbiamo Brigida Zampa Lulù Pallino Patuffolo e infine UAP all'interno poi della scheda potete trovare anche la data di nascita di tigre il suo colore preferito che è anche il mio e i suoi due migliori amici che sono Pallino e Pinco mi appresto ora ad aprire tutti gli altri 5 kitties e vediamo un po' chi ho trovato ed ecco qua ragazzi guardate quanto sono belli ovviamente solo allo sguardo per voi che potete vederli ma non toccarli come me perché sono davvero anche morbidissimi i 6 Doki Doki Kitties che ho trovato sono davvero bellissimi ho trovato Pinky tutta in rosa con le orecchie glitterate sempre sulle tonalità del rosa e questo musetto bianco guardate gli occhioni quanto sono espressivi e poi tendenti al rosa anch'essi poi guardate Geremia anche lui davvero carinissimo con questi colori dal giallo fluo al rosa fluo e le orecchie naturalmente sempre glitterate tendenti al giallo oro così come i suoi occhi super espressivi guardate quanto è carino Pinky invece tendente anche lui al giallo fluo e al rosa gli occhi invece al viola il suo nasino rosa e le orecchie glitterate color oro pucciosissimo anche Poix con questi colori che tendono e vanno dall'arancione al giallo poi lui è tutto batufolosissimo e bianco e gli occhi di color verde super bello tigre ovviamente il mio preferito guardate quanto è bello sia come espressione sia come ovviamente colore del pelo poi veramente sono tutti tutti morbidissimi e infine guardate quanto è bello pallino con tutti questi colori pastello dal rosa tenue al celeste al viola al blu carta da zucchero ragazzi davvero tutti morbidissimi pucciosissimi con queste orecchie glitterate e questo sguardo dolcissimo insomma andate assolutamente in edicola dove potete trovarli insieme al magazine al prezzo di 3 euro e 99 sono 12 collezionateli tutti mi raccomando per quanto riguarda invece questi 6 qualcuno di voi potrà adottarli compreso tigre l'amore di mimmino quindi mi raccomando ora una carrellata vi guardate di nuovo tutti questi 6 bellissimi kittis e poi ci rivediamo insieme che c'è Grazie a tutti. Ed eccoci qui tornati ragazzi, spero davvero che questo video vi sia piaciuto ma soprattutto che vi siano piaciuti questi bellissimi Doki Doki Kitties della Svabam che vi ricordo trovate in edicola al prezzo di 3,99€ insieme al magazine. Ma veniamo ora al dunque, infatti tutti e 6 Kitties che avete visto all'interno di questo video potranno essere adottati da uno di voi. Quindi condizio sine qua non essere iscritti al gruppo facebook giocattoli da collezione e non chiacchiere e altro. Troverete il link qua sotto nell'info box quindi mi raccomando se volete adottarli iscrivetevi assolutamente al gruppo e vi troverete un post dove poter seguire tutte le indicazioni appunto per vincere i bellissimi Kitties della Svabam. Naturalmente sempre qua sotto nell'info box trovate anche il sito della Svabam che funge anche da shop. Non dovendo infatti trovare il vostro Kitties preferito in edicola potete infatti ordinarlo direttamente dal sito che per l'appunto funge anche come shop. Troverete anche sotto nell'info box naturalmente tutti i link per rimanere sempre in contatto con me per quanto riguarda i miei social soprattutto Instagram ovvero i social nel quale sono più attivo. Quindi mi raccomando ragazzi correte in edicola per collezionare tutti i doki doki kitties e mi raccomando soprattutto iscrivetevi al gruppo facebook giocattoli da collezione e non chiacchiere e tanto altro dove potrete adottare questi bellissimi e bucciosissimi gattini. Un bacio grande ragazzi e noi non ci vediamo presto ma prestissimo. Un bacio a tutti.